Dico solo tre cose io. Oh, se vuoi ascolta. Parti tu, senza domande vai tu? Sì, sì, parlo io. Siccome qui sono abituati bene, in questo momento qua, oggi nei miei confronti, siccome sono 3-4 partiti che iniziano a fischiarmi, quello che ho fatto a Roma, che sono andato via, l'ho fatto a Madrid e sono andato via, se qualcuno non gli sta più bene, qualcuno, dico non tutti, io pianto tutto e vado a casa. Siccome oggi un pochettino si sono impuntati contro di me qualche fischio, che è arrivato nei miei confronti, lo dico adesso e non lo mando a dire, siccome è successo già l'anno scorso, anche due anni fa, una parte mi massacra, inizia a fischiarmi, se lì sta bene è così, io quello che ho fatto a Roma e a Madrid, pianto tutto e vado a casa, a buon intenditor poche parole, senza nessun tipo di problema. Siccome sono abituato a mangiare tanta Nutella, quando mangio un po' di ***, che faccio qualche partita così, iniziano a storcere il naso, ma non c'ho problemi, io quello che devo dire lo dico, senza nessun tipo di problema. Ma no, questo non è un problema, siccome anche la squadra è seconda in classifica, seconda in classifica, seconda, l'Inter fa un altro campionato, però non c'è un secondi, fischi, mugugni, soprattutto nei miei confronti, sono venuto a parlare per dire che un pochettino mi hanno preso di mira, dall'inizio alla fine. Questo è un messaggio che lancio, io non ho problemi, l'ho fatto a Roma, l'ho fatto a Madrid, posso anche farlo qua, se a qualcuno sta bene, faccio valigie e vado a casa.